Non si placa la polemica sul mercato settimane di Trani. Questa mattina, come ogni martedì, gli operatori sono tornati su Via Falcone, in una giornata non semplice per i commercianti. Grande traffico in città, infatti, a causa dei lavori in corso, proprio tra Via Falcone e Via Borsellino, punto di transito per tutta la zona sud della città per imboccare la tangenziale dalle uscite di Capirro. Insieme al forte vento, entrambi i fattori hanno contribuito a diminuire l'affluenza al mercato, scoraggiando gli operatori, già sul piede di guerra, per le dichiarazioni dell'assessore comunale Carlo Laurora, che sui social si era interrogato relativamente all'utilità del mercato stesso. Questo è qua e si sta un po' con noi, vediamo se lui è capace di fare quello che facciamo noi. Non è umiliante, ma noi ci siamo fatti la faccia, è così. Devi essere capace di stare in mezzo alla strada, fare un mestiere, un treno qua, mentre stai parlando con la gente, non si sente, devi aspettare, l'assessore sta nell'ufficio, l'aria fresca o l'aria calda, il resto di noi non è che non ne sa niente, fa finta di non sapere niente, o si vuole sbarazzare a dire che il mercato non serve, perché lui avrà un fastidio in meno durante la settimana, un giorno, mezza giornata alla settimana. Tante le prese di posizione sulla vicenda, che si è stesa anche all'esterno della comunità tranese, provocando una reazione dei mercatali di tutta la provincia, soprattutto di Andria. Sul punto è intervenuto il presidente di Casa Ambulanti, che ha rimarcato la gravità del silenzio del sindaco, Amedeo Bottaro, su tutta la questione. L'espressione di un assessore può anche dar adito alla consapevolezza che ciò possa essere un'espressione politica, che è la cosa ancora più preoccupante. Devo dire che l'assenza di una reazione da parte della politica, io stesso ho invocato una dichiarazione da parte di Bottaro, del sindaco, che non è mai arrivata, peraltro anche stimolato un dibattito pubblico, anche per approfondire l'importanza e il valore del mercato di Trani, che è un mercato anche storico, ma dell'ambulantato in generale. Questo non è arrivato, quindi a questo punto io devo quasi pensare che le dichiarazioni dell'Aurora, gravissime, siano state fatte proprie dall'amministrazione comunale. Questo sarebbe gravissimo. A questo punto c'è ancora più ragione perché qualcuno chiarisca il senso di quelle stupide dichiarazioni. Il mercato sta e deve stare, perché il mercato è importante per il popolino, perché a noi vengono non gli assessori, a noi vengono il popolino, quelli che prendono la pensione vengono da noi, non vengono quelli che hanno i soldi.